bella a tutti i forniters benvenuti eccoci oggi 12 giugno per andare a vedere il negozio oggetti il ritorno di avatar 15 su wandal con zucco poi il dorso decorativo o3 di katara il piccone mazza della tribù del sud zucco skin il dorso decorativo modello di zucco e le sciabole di zucco molto carine acquistabili anche in singolo poi abbiamo il pacchetto toff beifonka sono gli stessi pacchetti sono usciti poco tempo fa cintura del torneo torso decorativo e martelli da guerra turbine d'aria e le botte poi abbiamo futurama che abbiamo visto ieri dragon ball che abbiamo visto 2-3 giorni fa con tutti i vari bundle my hero academy l'abbiamo visto un altro ieri se non erro molte cose ma molte già riproposte mister beast il torna il dior burger il bundle lego lo saltiamo mazzo boss sempre presente quando c'è il dior burger star wars marie oggettistiche stile distintivo sono a secco le motte la skin ombra ambaltata con il dorso decorativo ali d'ombra poi abbiamo il gendarme ombre in questini combattente marino ombre a pantaloncini corti assassina artica rompe ghiaccio il rimbalzello poi abbiamo un fianco i ballerini scena 14 abbiamo arc con il dorso decorativo ali d'arc poi abbiamo pilastro che sta tornando frequentemente era stato assente per molto tempo a questa skin qua abbiamo anche la versione oscura poi abbiamo il suo dorso decorativo la rapace poi la skin frullo il dorso decorativo rullo d'aria diandali e poi abbiamo i picconi a chiappa mosche che è il piccone di pilastro e falce del frammento molto bello questo piccone questo è davvero bello che è il piccone di fun scende dei motori torna il bundle samurai centio turbox stascia la ruota l'ultima di billy eilish attrezzatevi per il festival tracce gem e domani ragazzi dovrebbe arrivare la nuova stagione di fortnite festival con i metallica come come diciamo artista principale la crew di fortnite i vari pacchetti pacchetto starter pack ancora disponibile il pacchetto fuse e oltre a questo abbiamo il pacchetto salva al mondo come sapete non è disponibile per switch che comunque vi permette di avere fino a 1500 mi bacca andando a completare tutti gli incarichi termina qui il negozio oggetti di oggi ragazzi mi raccomando iscriviti al canale mettete un bel like e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti